tu puoi essere guarda caso complottista guarda caso sei novax guarda caso hai la teoria che che è un se come tu l'altra volta abbiamo parlato molto di un meccanismo di retro ingegneria no se noi andiamo indietro vediamo che invece è abbastanza ovvio che se uno ha dei dubbi può averli anche per altre teorie o per altre versioni diciamo ufficiali che poi quando nel caso dell'11 settembre quando esaminiamo la versione ufficiale è ancora più ridicola se si può dire di quella del virus o almeno siamo sulla stessa sulla stessa come si può dire tragico media perché non si capisce se se si pigliano in giro se è un ricatto continuo uno sono questi meccanismi intercambiabili no che loro lavorano come detto bene con una preparazione del terreno che viene da vent'anni prima e quando arriva il momento hanno già un po tutto polarizzato tutta la gente in una in una fascia ben delimitata di un pacchetto un pacchetto di discorsi che si può fare associato a un insieme di idee che che puoi avere diciamo tutti questi vari ingranaggi sono concatenati uno con l'altro nella narrazione ufficiale sì sì infatti la situazione la situazione quella poi sull'11 settembre vabbè chiaramente adesso non ha molto senso di diciamo concentrarsi sui piccoli dettagli comunque basti solo pensare all'assurdità di una una narrazione che ti dice che con due aerei che colpiscono due torri ne cascano tre di cui uno a centinaia di metri di distanza e cinque ore dopo sarebbe come visto che i grattacieli sono grossi la gente non sa bene come funzionano si spegne come cervello di fronte a questa assurdità ma per capirle bene basti pensare ad un ad un esempio minimale ecco che diciamo più riguardare la nostra vita di tutti i giorni supponiamo che in una strada noi si stiamo un incidente di due auto che fanno un frontale e non ci stupiamo del fatto che sia cartocino entrambe ma immaginiamoci che poi cinque ore dopo tre strade più in là un'altra un'altra automobile completamente da sola sia cartocci da sola e qualcuno dicessi perché c'è stato quell'incidente allora si è cartocciata cinque ore dopo quella macchina lì è chiaro che noi diremo un momento questo non è assolutamente possibile ecco quello che è successo di settembre esattamente quello ci sono stati due episodi poi andandogli a vedere non hanno senso neanche loro però diciamo l'elemento più assurdo di tutti fra tutte le storie era proprio era proprio questo questo fatto che dopo i due eventi principali a causa del fatto che erano successi questi due eventi in un modo assolutamente anche altri sono successi anche altri però questo fatto che poi a centinaia di metri crolli un grattacielo per i fatti soli tra l'altro grattacielo a struttura d'acciaio che sono delle mostre che non vengono giù in tutta la storia non ha mai crollato un grattacielo a struttura d'acciaio neanche con i rughi più più intensi sono fatti apposta per noi ma sì sono fatti apposta poi il il se il fuoco riuscisse a sciogliere l'acciaio noi andremo in automobile ogni volta che ci si scioglie la macchina sotto il culo perché sarebbero usa e getta le automobili una delle cose una delle cose tragiche era proprio quella che il combustibile degli aerei sciogliesse l'acciaio come se il diesel sciogliesse il motore di stesso che lo fa bruciare si no come gli aerei che volano si scioglie l'aereo mentre vola chiaramente quello che ha ipnotizzato la gente è la grandezza dell'accaduto in termini proprio di dimensioni perché finché succede qualcosa un'automobile se l'automobile se cartoccia da sola magari qualche dubbio ce lo poniamo se invece si accartocciano da soli di grattacieli è una cosa così grande che la nostra mente vacilla se poi hai da una parte un'autorità alla quale bene o male tu hai sempre affidato la tua vita che è lo stato il grande il grande protettore quello che ti darà la pensione quando sarai vecchio eccetera quello che ti dice tutti i giorni cosa succede nei telegiornali per poi alla fine è sempre quelle emanazioni lì anche se poi i network fossero privati allora quando anche loro poi ti raccontano che è successa una cosa comprensibile tu decide hanno capito loro per me e quindi io non devo più capire niente tutto quello che succede normale e le mie vaghe impressioni diciamo sotto pelle che quello che è successo non ha nessun senso vanno immediatamente sepolte però però finiscono per essere sepolte ma sono sempre lì e questo poi spiega anche l'aggressività di tutti questi succubi del mainstream del mito mainstream quando uno prova ad andarli ad aprire gli occhi diventano aggressivi perché inconsciamente sentono il rischio di un mondo che gli si potrebbe disintegrare sotto i piedi io mi ricordo che più di una persona con la quale discutevo di queste cose a suo tempo 15 anni fa perché adesso mi rifiuto categoricamente cioè magari ne parlo così in una trasmissione dialogo così ma non è che mi metto a dibattere con qualcuno a cercare di convincerlo perché se non ci è arrivato sinora non c'è possibilità e mi ricordo che però parlando con qualcuno sul momento quando di fronte messo di fronte a tantissima evidenza di quella veramente inoppugnabile io mi ricordo la persona dire era come una confessione era un pensare a voce ad alta che quali valeva una confessione diceva se anche fosse vero non lo vorrei sapere però questa è una confessione e me l'ha detto più di una persona quando messi alle strette persone intelligenti con tutta un senso della logica che però messi di fronte alle strette si rendono conto che la logica porta lì e a quel punto loro dicono a loro stessi ma lo dicono a voce alta così che poi ho sentito anch'io ma chissà quante volte lo dicono a voce bassa e noi non lo sentiamo e magari è completamente sotto il livello della coscienza come fenomeno magari lo dicono a loro stessi inconsciamente e si noti bene che anche se lo dicono a voce alta questo non cambia il processo loro continueranno a non crederci dicono a voce alta se anche fosse così non vorrei saperlo e questo la dice tutta perché è veramente il motivo il motivo più più potente che che chiude le menti di milioni di persone perché non non sono in grado di reggere ad una distruzione di tutta una serie di ancore di punti fermi di certezze sul mondo in cui vivono senza i quali sono perduti ecco è un meccanismo di autoipnosi ipnosi che fanno loro stessi prima c'è l'autoprotezione che poi crea una sorta di autoipnosi e una sorta di trance nella quale non si percepisce più informazione se questa è troppo sconvolgente d'altra parte tutti quelli che hanno creduto alla versione ufficiale per degli anni per del tempo come la maggior parte delle persone quando hanno fatto la transizione è sempre stato un fenomeno doloroso non è mai stata una cosa allegra spensierata mentre io ho notato viaggiando molto tra i paesi che più ci si dirigeva verso l'est quindi ci si allontanava dall'impero americano quindi ci si allontanava da questo sistema di credenze di valori ai quali si associa anche un un affetto interiore no una parte della propria identità allora in quei paesi non c'era nessun problema vedere le cose come stavano quindi di solito perché non creava non non creando un trauma appena venivano messi di fronte ai fatti le persone già si si beh si è ovvio d'altra parte ovvio cioè non hanno un problema a commutare la narrazione che fanno di un evento quando la nuova narrazione è molto migliore di quella vecchia